Ha perso il controllo della propria auto, per cause ancora da chiarire, lungo la via provinciale Maiano a Bellaricetto di Lugo, nello stesso punto dove perse la vita l'8 luglio del 2017 una 25enne in moto. Purtroppo anche in questo caso per il guidatore della Honda non vi è stato nulla da fare. L'auto ha prima toccato il guardrail, poi è finita nel fosso cappottandosi. L'uomo di circa 60 anni è stato sbalzato all'esterno ed è morto sul colpo. Sul posto in poco tempo il 118, i carabinieri di San Lorenzo di Lugo che hanno chiuso la strada per i rilievi e i vigili del fuoco. Non sono stati coinvolti altri veicoli.